L'uomo e la donna sono il compimento di specie umana, cioè sono ognuno la metà dell'altra intelligenza, capite? Oltre al fatto di considerare al centro dell'attività sociale, culturale, probabilmente anche economica, perché questi non avevano la necessità del mercato o comunque si svolgeva il commercio in una maniera completamente diversa da quella che immaginiamo noi. Nell'attuale sistema, il mercato è l'unica cosa che conta. Business is business. Torna conto ed edonismo, non c'è altro. La cultura, il sociale sono orpelli, più che altro perché la cultura proprio frega un c***o. Se non ci fossero ancora individui che hanno voglia di cimentarsi in questa strana parola, per il resto non frega proprio niente. Lo possiamo tranquillamente osservare nel modo in cui teniamo conto delle opere d'arte di cui disponiamo. Tenete conto che in Italia c'è il più grosso patrimonio di opere d'arte al mondo e noi abbiamo per esempio gli uffizi a Firenze, dove ci sono centinaia, migliaia di quadri ficcati nel magazzino, mai esposti per dirvi quanto gliene può fregare. Il sociale, per come lo intendono attualmente, è dipendente da business per il semplice fatto che dobbiamo poi interessarsi al sociale perché altrimenti questi ci prendono a calci in c***o e non fanno quello che vogliamo. Quindi dobbiamo raccontargli un po' di c***ate sul fatto che ci interessiamo molto al loro benessere, ma di fatto a noi non ce ne frega nulla. Se dobbiamo spianare la foresta, noi la spianiamo e secchiamo animali, tribù, tutto quello che c'è lì dentro. Se dobbiamo fare un cambiamento del sistema socio-economico-culturale o del tipo di modello economico ci inventiamo tranquillamente una pandemia e somministriamo una quantità spropositata di vaccinazione alle persone affinché stinchino. Adesso hanno un problema di ridurci fondamentalmente di numero e quindi lo fanno. Perché? Perché si è deciso che il modello economico bisogna cambiare. Ma poi siamo troppa gente, ma poi c'è pieno di pezzenti. Perché poi il sociale, secondo voi, di chi si occupa? Dei manager. Le politiche sociali sono rivolte, che ne so, a Zuckerberg, a Elon Musk? No, le politiche sociali sono per i morti di fame e i miserabili. Chi ha prodotto morti di fame e miserabili? Il sistema economico stesso. Quindi capite che è proprio tutta altra roba. Quello che potevano è, qui le politiche sociali non esistevano minimamente per una ragione molto semplice, che gli uomini erano estremamente interessati al funzionamento di questa cosa e quindi la loro essenza non veniva in qualche modo modificata nei primi 21 anni, dagli 0 ai 21, e quindi modellata per funzionare in questo meccanismo. Ma, semmai, veniva influenzata affinché potesse, in qualche modo raggiunta la maturità, spontaneamente rivolgersi all'autoconoscenza. quello che rimane un po' come frammento di tutto questo sapere, della famosa, come si può dire, adagio all'ingresso del Tempio di Delfi. Uomo conosci te stesso, teme, noce. Per questi era, cioè capite, pensate che figata, nasce in una civiltà dove fondamentalmente quello che gli interessa è quello che ci sta interessando a noi, che siamo quattro gatti, così, mezzi cacchetti, e tra l'altro concetti un po' che dobbiamo anche mettere a posto delle cose, capite? Era proprio tutto un altro bel modello di civiltà. Sicuramente l'abbondanza favoriva, perché, in questo senso, non essendoci un senso di scarsità, i bisogni che comunque, in quanto, per parte o natura inferiore, condividiamo stessi bisogni degli animali, territorio, sempre stesso dico, riproduzione e cibo, però questo veniva abbastanza assolto grazie al fatto che c'era questa forma di abbondanza e quindi tutto il resto del tempo poteva essere tranquillamente dedicato all'autoconoscenza, perché, ce lo dice ancora il Tempio di Delfi, uomo conosci te stesso e conoscerai le leggi che governano, dovinate un po', parolina magica, l'universo e gli dèi, che cosa, scusate la parolaccia, ma così mi do un po' di tono, che cosa c***o volevano dire questi? L'universo è lo spazio immenso, infinito, pensate un po' che roba strana, questi, dal nostro punto di vista, erano una specie di trogloditi che accendevano ancora il fuoco strusciando due pietre o il bastoncino di legno, ma erano estremamente interessati a capire qual è la relazione della forma umana con l'universo e collochiamo bene la parola degli dèi. Gli dèi, in questo senso, ritroviamo come concetto tra gli gnostici sono le influenze celesti. Che diavolo sono le influenze celesti? Eh, qui ci addentriamo ancora. Le influenze celesti, per esempio, hanno nel nostro sistema solare, quindi immaginiamo che questo sia il caro sole irradiante, nel nostro sistema ci sono tutta una serie di pianeti che orbitano intorno a questo vortice principale, ognuno di questi ha un senso rotatorio, sia intorno al sole che intorno a se stesso, ma, guarda caso, il terzo pianeta manifesta questa strana qualità chiamata natura o vita, zoe, no bios. Bios è un'altra cosa ancora. Le influenze celesti sarebbero il sole che non fa solo luce e calore, ma produce anche tutto uno spettro di vibrazioni che servono a scandire i processi, che urta tutti i pianeti che orbitano intorno alla sua sfera di influenza e ognuno di questi trattiene tutto lo spettro tranne uno. Per esempio, Mercurio, credo sia il giallo, Marte il rosso, Venere il verde. Questa emissione, tutto questo vibrare, in realtà si riflette sull'atmosfera del pianeta Terra, imprimendosi e creando una vibrazione particolare che gli antichi hindu chiamano Prana. E che il signor Burser chiamava Eziocari. Per quanto questa cosa possa sembrare assolutamente assurda, di fatto dovremmo, se mai, domandarci per quale, di ragione, tutti, le forme di vita che abitano questo pianeta, o comunque quelle che si muovono, respirano. Non è che assorbono solo ossigeno, staranno portando dentro il loro organismo, è chiaro che noi osserviamo solo quello, ma dovremmo capire cos'è l'ossigeno. Tant'è vero che se voi provate a dare ossigeno puro a una persona, rischiate di mandarlo al creatore. Quindi non c'è solo ossigeno. Ci saranno tutta una serie di altre sostanze aeree chimiche, ma c'è anche questa influenza o impressione legata, se mai, l'interrogativo è ma cosa serve? Per quale ragione? Come mai fa funzionare? Perché l'ossigeno non serve soltanto per i processi digestivi. L'ossigeno finisce dentro il sangue. Nel sangue, gli antichi dicevano che c'è lo spirito. Lo spirito inteso proprio come la volontà, l'impulso, il bisogno impellente di esistere. Pensate che spettacolo. L'altro giorno guardavo questa immagine dove veniva riprodotto praticamente tutta la rete sanguigna che irrora il nostro cranio, cioè quello che sta sotto la pelle. Perché noi pensiamo che qui ci sono quattro venuzze in giro? No, cioè è tutto, tutto il volto, quindi tutto il nostro corpo è di fatto all'interno contenuta, cioè c'è questa sagoma di sangue. Quindi sangue deve essere qualcosa che va molto al di là e che ha delle funzioni che vanno al di là di quello che possono essere poi le interazioni chimiche. Magari le interazioni chimiche sono il riflesso di qualcosa di funzionale che ha molto a che vedere invece con la natura, non tanto dell'uomo e basta, visto che è una cosa che condividiamo anche con gli altri animali, ma con l'universo stesso. Perché esiste la vita nell'universo? Non poteva starsene farsi i c***o suoi. In un mare di polvere cosmica, colori, buchi neri e tutti i c***o nazi che ci raccontano che prima o poi ci disintegreranno. Il terribile nemico sole che un giorno si spegnerà fra 5 milioni di anni. C***o, c'ho paura. Io sparo cazzate perché questo è per mettere il ridicolo, la presunzione della nostra mentalità che noi crediamo essere l'unica possibile. Figuratevi questi, proprio non ci pensavano minimamente. La difficoltà che possiamo incontrare per riuscire a comprendere la natura di tutto questo sta proprio nel fatto che non esisteva neanche la mentalità. Per individui così non c'è la mentalità, c'è l'essenza pura che ha estremamente chiaro davanti a sé la natura dell'esperienza che sta vivendo, cioè della vita, e quindi è costantemente presente a sé stessa, ma spontaneamente. Cioè non doveva fare, quegli individui non dovevano fare tutto lo sforzo che facciamo noi per rimanere, perché capisci, la chiave di sole, ricordo di sé, portare l'attenzione, lavori in calma. Questi sono fondamentali per la nostra attuale condizione umana di individui che sono stati progressivamente modificati e alterati per usi e consumi di questo sistema, che nasce molto là indietro nel tempo, probabilmente quando si è inclinato l'asse terrestre a causa dell'ingresso della Luna. Come abbiamo già spiegato in altri contesti, abbiamo tracce di precedenti epoche in cui la Luna non c'era come satellite. L'ingresso della Luna è come se immaginate di avere un mulinello di acqua, a un certo punto qua compare un altro mulinello d'acqua. Gli oggetti che stanno galeggiando dentro quel mulinello subiranno una variazione. La variazione che ha subito il pianeta Terra è stata quella di inclinarsi l'asse che come conseguenza nefasta ha avuto le stagioni. Quindi l'inverno dove c'è scarsità di cibo e tutta una serie di altre cose. Da lì nasce con la prima rivoluzione industriale l'attuale civiltà, che è l'agricoltura. Con l'agricoltura l'agricoltura ha bisogno di questo tipo di organizzazione e da lì in avanti noi non facciamo altro che seguire successive rivoluzioni industriali l'una dopo l'altra. In realtà qualche domanda io me la porrei. Cioè agricoltura, poi arriva il cavallo, poi la ruota, ci raccontano tutte queste cose. Il fuoco va e viene. Poi per quanto? Diecimila anni non succede una m***a. All'improvviso cominciamo con porvere da sparo, fucili e ancora qua un tot di tempo. Poi all'improvviso ce ne andiamo coi razzi sulla luna. Così. Dopo dieci... ma non te lo potevi far venire in mente prima. Cioè voglio dire, dovevamo per forza aspettare Faraday in qua per iniziare a sentire parlare di elettromagnetismo? Le materie prime non le stavi già lavorando? Dai monili, dalle cose, osserviamo tutto quello. Perché non c'è? E all'improvviso in 200 anni arriva la Cadillac. Fa un po' strano, no? Ma io lo lascerei così come interrogativo. Si vede che... no, come dice... com'è che si chiama? Fomenco? Ci hanno aggiunto mille anni nel racconto, ma ci possono aver aggiunto anche 20.000 anni. Il problema non è tanto qual è quello che sono stati... è perché tanto... in ogni momento di questa storia umana troveremo sempre un evento ricorrente. Qual è l'evento ricorrente che troveremo sempre nella storia umana, nonostante il suo grande sviluppo tecnologico? La guerra. La guerra dovuta a incremento demografico, necessità di espansione del territorio e quindi l'invasione dei territori vicini. Sempre alla ricerca di colmare un vuoto tremendo di scarsità che crediamo abbia a che fare con le risorse, ma in realtà è una scarsità intima. Qua, perché a causa di questo processo di condizionamento, noi passiamo il resto della nostra vita sentendo sempre un vuoto interiore, vuoto che non è dovuto a mancanza di cibo, di un riparo, di quello che è, ma è un vuoto dovuto all'assenza della possibilità, della nostra essenza, di conoscere se stessa, cioè di autoconoscersi e capire la ragione del perché esiste, in quanto essendo l'essere umano l'unico in grado di rendersi conto, grazie al fatto che ha coscienza. Insieme a Rocco Bruno abbiamo deciso di dare vita ad una nuova edizione di Matrix, una parabola moderna, rivista integrata e con un nuovo titolo usciredamatrix.interrogativo. Da oggi è disponibile su mm0.it slash usciredamatrix o su Amazon. Trovi tutti i link in descrizione.